I nostri rappresentanti per la delegazione svizzera che hanno accompagnato qui Sara, a voi la parola. Allora, noi siamo la scelta, sono un'irpina, dal contatto con Donatella di Bartolomeis è nata questa collaborazione e oggi, dopo tre anni, ci troviamo malapazzati. Questo rapporto è un grande rapporto, è un rapporto nel quale Donatella, che solleva dice, è venuta in Svizzera. Oggi siamo noi, per alcuni giorni, a rappresentare l'Uccelio. Non è un grande, non è. È una grande responsabilità, dovremmo dire. Essere irpini significa anche questo, significa andare al di là delle nostre frontiere, significa prendersi una marita e portare quello che lo sia. La Svizzera è lucena, oggi possiamo dire che non accade collaborazione. Dalla Svizzera è venuta sana e sposata, come i loro genitori. Allora, che sensazione avete avuto di questa esperienza? Svizzera è bellissima, bellissima. Allora, dall'accoglienza meravigliosa, al paesaggio, a questo castello che accoglie la fiera, ma a tutti gli autori, a questi tre giorni che sono passati velocemente, direi, a me purtroppo, si è respirato la cultura, si è respirato ciò che abbiamo dentro, ciò che dobbiamo ancora imparare, ecco, il messaggio è portiamo avanti la cultura, il legge, facciamo imparare i nostri figli, grazie addirittura, è importante. Grazie. E papà? Emozionato, suppongo? Sì, diciamo, il piano che c'è sempre un piacere, ma non è questo che siamo qua, diciamo, la cultura non viene, che va condiviso, che va scambiato, che va diffuso. Un artista guarda avanti la società, di 10-20 anni. Parlando questa mattina con un autore, avete visitato, del figlio, io sono sempre accadutato, praticamente, miele, la prima volta, e ho detto, no, veramente va bene, va qui, tre giorni qua, tre giorni dopo il viaggio, qui, in questi giorni, con gli autori che erano qui. Vi ringrazio, grazie a tutti, è stata preziosa, anzi preziosissima, la vostra partecipazione. Grazie a tutti.